In occasione della settimana europea della riduzione dei rifiuti, siamo qui in piazza Shanua d'Aosta sotto i portici con una serie di laboratori sulla raccolta differenziata. Per esempio abbiamo qui i cassonetti di vari colori in cui mettiamo la plastica, carta, vetro alluminio, rifiuti indifferenziati. La plastica sappiamo che sono gli imballaggi in plastica, facciamo attenzione quindi a conferire sempre nel cassonetto bianco i contenitori. Nella carta ci va anche il cartoncino e il tetrapack, vetro alluminio, le lattine quindi insieme al vetro e nell'indifferenziato ricordiamoci anche i contenitori di latta in acciaio che vengono poi separati successivamente. Secondo laboratorio un esempio di compost maturo che è stato realizzato in compostiera e tutti i cittadini sono incentivati quindi ad attuare questa tecnica in modo da smaltire in maniera autonoma i propri rifiuti organici, gli scarti di cucina. In quest'angolino abbiamo un esempio di spesa consapevole o no. Ad esempio qui abbiamo della frutta che è contenuta in due imballaggi di plastica, di conseguenza questo è un acquisto negativo. Al contrario invece della verdura o della frutta acquistata all'interno di un sacchetto di carta che è facilmente biodegradabile è sicuramente un acquisto da inserire nel gruppo della spesa positiva. Lo stesso vale per tantissimi altri oggetti, ovviamente meno c'è imballaggio e più rifiuto va bene. Allora noi proponiamo oltretutto anche un piccolo test a coloro che vengono in piazza per valutare se la loro spesa è effettivamente positiva o negativa con le faccine sorridenti o meno a seconda del comportamento virtuoso oppure no. Qui di seguito vediamo ieri, oggi, domani il percorso degli oggetti che vengono riciclati e che quindi per esempio da una lattina possiamo, ovviamente poi otteniamo una lattina che buttiamo nella spazzatura e di nuovo possiamo avere per esempio un contenitore di alluminio. Lo stesso vale per altri materiali, il vetro può passare da un oggetto a un altro oggetto riciclato. Con il materiale di recupero si possono anche realizzare degli oggetti creativi, per esempio qui abbiamo degli alberelli fatti con la carta recuperata oppure questa bottiglia rielaborata e in questa maniera attiriamo anche i bambini e li invitiamo a utilizzare la loro creatività per fare dei lavori simpatici magari anche in occasione del Natale. Siamo qui in piazza quindi per conto del Assessorato Territorio Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta per sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata, del compostaggio domestico e della spesa consapevole per togliere quindi ai cittadini i dubbi in proposito e la popolazione si mostra partecipe nonostante il tempo non sia proprio il massimo e quindi siamo contenti e speriamo di potervi aiutare a risolvere ulteriori dubbi o gli ultimi dubbi che avete.